Cosa ne pensa delle manganellate di Pisa e Firenze? Giulio lo chiede. Ma intanto mi sono sembrate esagerate. Io non ho visto poi un popolo che sta facendo una rivoluzione, per cui tutte quelle botte se le potevano risparmiare. Bene, chiarissimo. Allora, non è stanco? Non le andrebbe di andare in pensione e mandare tutti a quel paese? Chiede Racchi. No, mi piace mandare tutti a quel paese rimanendo attivo e non in pensione. In pensione cosa potrei fare se non grattarmi le palle? Bene. Allora, direttore, cosa pensa della crisi di coppie ed immagine di Fedez e Ferragni? Chiede Elena. Sinceramente non mi frega niente. Succede a tutti i cognosi di litigare o comunque a molte coppie di rompersi e nessuno fa delle tragedie. Quindi quella tra Fedez e Ferragni mi sembra un'assoluta normalità che va accettata senza fare tanti discorsi sui giornali, senza cercare di interpretare. E niente, due si possono anche lasciare, litigare e siamo nella normalità di cui avendo me ne frega niente. Una normalità che fa molto rumore, però questo dici. Allora, visto quello che l'Occidente sta facendo ad Assange, citando De Andrè, non esistono poteri buoni? Chiede Marco. Ma, probabilmente poteri buoni non ci sono. Però esistono i Pirla, perché se io fossi stato tranquillamente in Germania, me ne stavo lontano dalla Russia, dove sapevo che mettendoci piede mi avrebbero blindato. Quindi io non riesco a trovare, diciamo, dell'eroismo in quello che ha compiuto quest'uomo che è andato a morire, peraltro anche al freddo, che a me il freddo dà così fastidio. No, ma ti chiedeva di Assange. Questo era Navalny. Questo tu stai parlando di Navalny. Ah sì, sì, scusate. Noi più ti chiedevano di Assange. Ho fatto un po' di confusione perché sono un po' rincognito come Biden. Allora, no, ti faccio una domanda io. Ma tu avessi avuto i dossier che ha avuto Assange, li avresti pubblicati? Io sì, assolutamente li avrei pubblicati. Ma al volo. Non riesco a capire come mai. Ah certo, senza pensarsi due volte. Ma anche perché... Anche perché poi non capisco come. Vai, vai, scusa Vittorio, scusami, vai. No, no, mi interessa quello che stai per dire. No, non solo li avremmo pubblicati, ma c'erano tutti i grandi giornali del mondo quando Wikileaks metteva fuori quei rapporti diplomatici e quei documenti trafugati dall'analista militare Chelsea Manning che facevano la fila davanti alla porta di Assange per averli in esclusiva e in anteprima. Adesso che rischia l'iniezione letale o 175 anni di galera fanno tutti finta di non conoscerlo. Sì, ma poi soprattutto questa vicenda dimostra che attaccare Putin è diventato uno sport nazionale, mentre invece qualsiasi puttanata che fanno gli Stati Uniti va compresa, va capita, è giusto, 180 anni di galera, cosa vuoi che siano, basta vivere dieci volte.